good morning si qui sono diciamo le 11 quindi con io in questi casi un primo mattina prestissimo attirata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente david lynch it's april 24 2022 and it's a sunday in naples a middle morning at more cloudy morning and with the back con un vento abbastanza pesante 60 and for in for the final 30 in the celsius and this means that it's that they really 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 soft like this days in this period però a causa di questo vento pesante che c'è fa un po più freddo comunque il clima primaverile per quanto riguarda le video tools i think i always do separate from this anche se non lo so se lo faccio ma for those are interested i occhio anyway i see and you will just see from the window non so se si vedeva bene comunque ma via di mezzo è sia nuvoloso che c'è anche un bel c'è appunto un po nuvoloso anche un bel cielo a tratti ma io penso più tendente al nuvoloso e quindi i think that it's after new temperature potrebbe scendere però non sono sicuro penso più similante in caso quando simile ma l'importante in generative ipotesi that for me we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and good and sunshine infatti penso che pioverà ma comunque non sono sicuro di anche essere smentito poi lo aggiornerò domani vedremo come sarà stato per cui said this so from the mythical window with the orange red blue green water curtain and it's the shooter behind me on the top not visible in fact in the shot and finally from the mythical keyword llamati gx 640 ipg 625 have a great day in all the people follow the channel the reports un saluto davvero a tutti and also i hope you all have a great breakfast e la farò tra poco il mio stomaco come sempre è pronto non so se lo sentite anche e soprattutto se il tempo è così è brutto anche da voi spero che vi consigliate con la colazione so i'll see you in the video toots in the case or tomorrow ciao